Via Garibaldi questa sera si illumina grazie al Summer Light Party organizzato alla grande dal CDH di Domenico Barbano e Mirella Rocca. Ancora stasera avremo una grande e bellissima possibilità di vedere soprattutto Via Garibaldi piena di glamour, di stile e di eleganza. Finalmente la moda ritorna e ritorna veramente con tanta energia, tanto sole, tanta forza perché la città deve rinascere e la moda fa rinascere la città. E soprattutto avremo tantissimi stilisti che presenteranno i loro capi con delle ragazze e dei ragazzi meravigliosi del CDH e quindi evviva la moda, evviva il CDH e viva Via Garibaldi! Fireworks lit up from the start Got me on cloud nine Feeling more Feeling more than just fine Just forget about the time The time Cause I want you now And forever Ever Summer Light Party organizzato alla grande dal CDH e chi meglio di Mirella Rocca poteva di nuovo illuminare via Garibaldi e soprattutto Torino ciao Mirella grazie a voi, ciao a tutti ciao Max, ciao Luca piacere avervi qui come l'anno scorso e qui diciamo facciamo risplendere Torino un po' di vivacità, un po' di energia un po' di moda di solarità e tu la solarità questa sera la stai indossando alla grande con questo vestito bellissimo insomma ci riporta un po' sulla costiera amalfitana vero Mirella? certo, indosso un abito appositano siamo felicissimi di ravvivare questa grande via del centro di Torino e ne abbiamo bisogno vero Maxone? ne abbiamo veramente bisogno e il CDH con Mirella Rocca e Domenico Barbano sanno portare il colore e sanno portare il sole finalmente a Torino siamo questa sera come OAS e CDH di Torino abbiamo organizzato questa serata come preludio all'estate e a quello che tutti speriamo che si possa tornare in una normalità prossima noi abbiamo sempre incentivato la gente a seguirci a vedere con i nostri ragazzi e nostre ragazze questa sera è stata una serata bellissima con Mirella Rocca che ha seguito tutto la preparazione dei ragazzi e abbiamo dato come avete visto una serata di allegria, musica, moda e bellezza come sempre noi siamo su questa linea qua siamo in compagnia di Chiara Contini lei è il mondo dei social lei è un'influencer fantastica e questa sera qui in via Garibaldi per questa sfilata grandiosa del CDH di Mirella Rocca Chiara, com'è stata questa sfilata? grandiosa, l'hai detto è stata una sfilata molto varia mi è piaciuta perché mi dà tanti stimoli, tanti spunti tanti modi di essere perché noi siamo tanti modi di essere abbiamo più di uno stile, no? e quindi avevamo questa varietà dalla quale acchiappare hai capito Maxone secondo me ci saranno tante sorprese sui social di Chiara perché questa sera ha acchiappato tanto, vero? ho acchiappato tanto, sì poi lo rielaboro, eh cioè io ho tante, mi servo di tante fonti perché ho un'esigenza, sono una perfezionista ho esigenze di essere documentata ben documentata mi sono documentata e poi rielaboro e poi creo vediamo fuori che cosa salta fuori ha sfilato qui in via Garibaldi poser e devo dire poser non è nulla senza Laura ciao Laura! grazie ragazzi buonasera a tutti penso sia stata una splendida serata io sono qua oltre che per sfilare i miei capi che sono rigorosamente made in Italy come continuo a dire sono anche qua per dire una cosa molto importante comprate nei negozi non voglio fare discorsi retorici di tasse ma voglio ricordarvi che noi piccole partite IVA siamo l'anima dell'economia italiana grazie ragazzi grazie Laura grazie a noi questi ragazzi splendidi grazie ragazzi uuuuuh